Ascolto e disponibilità a valutare le possibili soluzioni a un problema che sta mettendo in ginocchio uno dei tribunali più importanti d'Abruzzo. A dimostrare tale sensibilità è stato il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che all'atere della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio Nazionale Forense, svoltasi a Roma, ha incontrato il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, Guerino Ambrosini, ricevendo dalle sue mani una relazione scritta sulla carenza di organico che nel Palazzo di Giustizia di Teramo rendono ormai da mesi difficile erogare persino i servizi essenziali. Questi giorni le cancellerie vanno a singhiozzo, vengono chiuse e addirittura ci sono cancellerie che aprono solo due giorni a settimana per tre ore, quindi con gravi problemi per gli utenti, gli operatori del diritto e anche per i cittadini stessi. Come tribunale credo che sia tra i più grandi in Abruzzo, se non i più grandi come iscrizione di cause a ruolo, sia nel civile che nel penale. Nel 2015 ci sono stati 229 fallimenti, ciò che in Abruzzo non ha riscontri, le esecuzioni immobiliari sono tante, ma anche il civile ordinario è tanto. Anche con il processo telematico che noi eravamo all'avanguardia come tribunale di Teramo, adesso ci troviamo in difficoltà perché non ci sono operatori che scaricano gli atti che vengono depositati telematicamente.